Libero Ricciardi, match winner con un bellissimo gol su punizione, Chaminade Busso in finale playoff, battuto il Macchia, finale vietato ai deboli di cuore. Sì, è stata una bellissima partita, ci hanno messo in difficoltà, lo sapevamo che sarebbe stata dura, ma abbiamo stretto i denti, alla lunga siamo usciti. Sono contento per il gol alla fine perché ci ha permesso di raggiungere la finale senza andare ai tempi supplementari. Adesso ripartire dal secondo tempo per andare a Torre Maggiore a giocarvi la partita a testa alta. Sì, questa settimana la prepareremo bene la partita, diciamo che come fondo il campo è uguale al nostro, quindi sappiamo giocarci. Con la tanta pioggia che è caduta il campo non era dei migliori e quindi ci ha penalizzato un po', ha fatto più il gioco loro. Secondo tempo noi però siamo usciti perché durante questo periodo ci siamo allenati bene e quindi alla lunga abbiamo avuto la meglio sul piano fisico. Ci avete creduto fino alla fine, questa è stata forse l'arma vincente. Sì, noi dal primo giorno, da agosto, che ci crediamo, questo era il nostro obiettivo e farlo davanti questa cornice di pubblico che ci ha seguito in casa, fuori casa, è sempre qualcosa di speciale.